Grazie a tutti. Sono rotto. Alzati e guarda Davide. La tua cazzo va. Vai, vai, cammina. Non guarda a me, guarda dritto, capito? Per stare Davide, vai. Ora. Cammina. Fermati qua sopra. Non guarda. Non guarda. Non guarda. E per lei dove c'è l'altra? Ehi, qui, sto a c'erodiché le altre. Ma non, è una farcia. Voi un po' di farlo. Eh, ma non c'è un po' di farlo. Vi che era un po' di farlo. Non c'è un po' di farlo. Eh, guarda. Sto a vedere, io che sei un po' di farlo. Sto a vedere. Mmmmm, buono. Sì! Nooo, non c'è, guarda! Interpreta la parte! Che devi dire? Guarda, come è? Hai finito il cattolo? Morito come posso scherzo! Ora guardami! Hai finito! È stato un altro tempo! Ma non c'è un bel Centro? È un bel Centro! È un bel Centro! Grazie a tutti